Ciao guys, TikTok senza senso, solo per salutarvi, ringraziarvi di tutto quello che fate sempre per me. Sono super felice e molto emozionata perché ho parlato più di un'ora al telefono con una delle mie più care amiche. Ed è proprio bello, è proprio bello parlarsi, confrontarsi, bellissimo. E lo faccio tanto anche con voi, capito? Non solo con i miei più cari amici. Quindi grazie di tutto il supporto che mi date su tutte le piattaforme e grazie di crescere insieme a me. Grazie a tutti.